Un tour enogastronomico tra i piatti di alcuni dei ristoranti e pasticceri più importanti di Prato nei bellissimi chiostri del centro storico. Si svolgerà domenica 25 giugno la quinta edizione della Gran Fondo del Mugello, corsa ciclistica che conta già mille iscritti. A San Giovanni Valdarno arriva il Phoenix Fest, concerti di musica rock, rap e crossover made in Toscana. Paesaggi, nature morte, volti, la mostra Entropia in foto di Alessandro Signorini. It Prato da chiostro a chiostro Lunedì 3 e martedì 4 luglio dalle 19 a mezzanotte è tempo di da chiostro a chiostro, il tour enogastronomico tra i gustosi piatti di alcuni dei ristoranti e pasticceri più importanti della città organizzato da Confese Centi Prato. Una formula che ripete il format dello scorso anno e che si caratterizza per l'accesso del pubblico in tre bellissime e suggestivi chiostri della città, quello della chiesa di San Domenico, di Sant'Agostino e quello del Duomo. Da chiostro a chiostro sarà un festival enogastronomico per scoprire e assaggiare le creazioni di alcuni tra i migliori chef e pasticceri di Prato e allo stesso tempo visitare luoghi stupendi e solitamente poco accessibili, come ad esempio il chiostro di Sant'Agostino, novità di quest'anno. Confermata oltre al chiostro di San Domenico, dove sarà aperto anche il refettorio, anche la location del chiostro del Duomo, con l'apertura anche del Museo dell'Opera del Duomo. Rassegna enogastronomica che vedrà 11 ristoratori che saranno nel chiostro di San Domenico, a cui si aggiungerà il meglio della pasticceria pratese e italiana, con quattro pasticceri famosi, appunto, pratesi. E in Sant'Agostino avremo, appunto, le bevande, quindi vini locali e birre locali. La cosa che mi preme anche sottolineare è che, appunto, oltre all'enogastronomia vogliamo, appunto, dare risalto anche a dei luoghi bellissimi di Prato, che sono, appunto, i chiostri dove realizziamo l'iniziativa e, tra l'altro, specialmente il chiostro del Duomo e il chiostro di Sant'Agostino sono luoghi poco accessibili normalmente e sono bellissimi. Quindi, oltre alla curiosità di assaggiare i piatti e le bevande prelibate, c'è anche la curiosità di andare a vedere questi luoghi molto belli. E quindi la nostra ambizione è anche quella di, come dire, portare persone fuori da Prato a scoprire Prato e le bellezze di Prato. Quindi si mette insieme il turismo, si mette insieme il commercio, si mette insieme tutto quello che è una fotografia di un territorio che sicuramente non ha niente da invidiare ad altri territori della Toscana. Siamo su quei sentieri che vengono promossi in Toscana, su quegli itinerari che sono più o meno itinerari nascosti e che quindi c'è bisogno di far conoscere insieme, appunto, ai mestieri, alle sapienze, agli artigiani e al commercio del nostro territorio. Quindi un plauso a Confesercenti, da parte di Vetrina Toscana e della Toscana, è un piacere poter sostenere queste aziende perché sicuramente da parte nostra c'è la necessità di dare risalto a tutte quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Una bellissima iniziativa, ho avuto modo di poterla visitare insieme alla Presidente Bugetti anche lo scorso anno. Un'iniziativa in cui si tiene insieme arte, storia, cultura, bellezza, la nostra tradizione, il buon cibo, i prodotti che nascono nel nostro territorio. Si fanno conoscere le migliori eccellenze culinarie di Prato, si fanno conoscere i prodotti del territorio. Insomma, un'iniziativa che ha coinvolto davvero tantissima gente, un'iniziativa che viene ripetuta perché ha funzionato. Noi abbiamo fatto una scelta quest'anno di tenere dentro il contenitore di Prato quelli che sono gli eventi più importanti, più significativi, legati all'enogastronomia della nostra città. Da chiostro a chiostro è stata una bellissima esperienza l'anno scorso, quest'anno torna, fra l'altro ampliando il proprio perimetro, anche coinvolgendo Piazza Sant'Agostino, e l'anno scorso non c'era. Tanti, tantissimi, diciamo, esercenti che vengono coinvolti, tantissime attività che vengono coinvolti, la pasticceria, insomma, è un bellissimo modo per scoprire i nostri meravigliosi chiostri mangiando delle cose buonissime. Rappresenta per noi la volontà di investire sul settore enogastronomico come uno dei principali filoni importanti per valorizzare l'ambito turistico pratese, che è un ambito turistico, se vogliamo, più piccolo rispetto ad altri nella nostra regione, ma che ha tante caratteristiche diverse da offrire ai nostri turisti. Sicuramente il filone dell'enogastronomia è un filone centrale, Prato ha dei ristoratori, dei pasticceri, che vincono il riconoscimento a livello nazionale e quindi per noi valorizzare questa dimensione vuol dire comunicare bene il territorio e vuol dire anche spiegare ai turisti che qua possono trovare un'offerta di qualità interessante da abbinare naturalmente anche con tutte quante le emergenze culturali e naturalistiche che esistono a Prato e che possono essere intrecciate in una programmazione integrata come facciamo in questo caso con Fesercenti. La Gran Fondo del Mugello Si svolgerà domenica 25 giugno la quinta edizione della Gran Fondo del Mugello, corsa ciclistica divenuta rapidamente un appuntamento di richiamo sul territorio mugellano. Sono già mille gli iscritti alla manifestazione, che è principalmente una corsa cicloturistica, ma presenta anche due tratti cronometrati e chiusi al traffico di tipo agonistico. Una corsa per tutti, il cui tragitto è stato modificato per effetto delle frane o corse a seguito delle piogge straordinarie delle scorse settimane nell'Alto Mugello, che vedrà come starter d'eccezione dall'autodromo del Mugello il campione del mondo Beppe Saronni, assieme al noto giornalista Beppe Conti. La nostra è una Gran Fondo veramente di tutti, il nostro slogan è la Gran Fondo per tutti, perché possono partecipare sia coloro che la vogliono interpretare come girata, come cicloturistica, sia gli agonisti che si vogliono cimentare in tutta sicurezza nei due tratti cronometrati. Ripeto, in tutta sicurezza, perché anche questa è una caratteristica del nostro Gran Fondo, la sicurezza, a cui teniamo molto. Un'altra cosa si chiama la via del latte, perché abbiamo la sponsorizzazione anche della Mucchi Latte e ripercorrere un po' quelle che sono, fra virgolette, le vie del latte mugellane, dove ci sono le fattorie, le zone di produzione del latte, eccetera, eccetera. Noi siamo profondamente felici di collaborare con l'organizzazione della Gran Fondo, perché è un momento importante per la collettività, ricevere mille partecipanti mi sembra una cosa doverosa e grande per valorizzare il nostro territorio. Tra l'altro noi siamo compartecipi anche dell'iniziativa e porterà Giuseppe Saronni alla presentazione del libro che ha fatto con Beppe Conti, uno dei più grandi giornalisti italiani e un grande campione. Faremo questa presentazione nella cappellina della compagnia del nostro paese e siamo molto contenti di questa cosa. Organizzeremo altre iniziative di cui la prossima, a fine estate, sarà la Pittoria, quindi nelle terre di Giotto, Beata Angerio, quindi nel nostro territorio del Mugello, che vedrà anche cimentarsi, però non solo sulla strada ma anche sull'asfalto. Questo aspetto per dire cosa? Che noi ci teniamo a valorizzare il territorio del Mugello come ciclismo, dico che ancora non è definita, quindi prendiamola col beneficio inventario, siamo un pochino a limare un po' tutte le varie situazioni, però pensiamo di accogliere nel ritiro pre-campionati del mondo la Nazionale Italiana di Ciclismo a fine luglio, inizio agosto, nel nostro territorio. Questa è una cosa su cui ci stiamo lavorando, insieme anche al Comitato Regionale Toscano, non è ancora definita, però è perché alla fine il nostro territorio esprime questa volontà e questa voglia di ciclismo e quindi anche avere una presenza della Nazionale Italiana di Ciclismo potrebbe permettere ancora di più di valorizzare quei percorsi, quei territori che da domenica si faranno con la Gran Fondo. Un'iniziativa che porta il Mugello a essere conosciuto anche fuori dai confini della nostra regione, un'iniziativa che viene dopo lo splendido Gran Premio che ha avuto luogo la scorsa settimana e che riesce a raccontare quanta bellezza c'è nella nostra terra. Il ciclismo è uno sport che è amato da tante cittadine e tanti cittadini della nostra regione, è uno sport che ha visto tanti toscani emergere, è uno sport sì di fatica ma che ci permette anche di poter vivere i luoghi più belli della nostra terra. Il Phoenix Fest Per il secondo anno consecutivo va in scena a San Giovanni Valdarno il Phoenix Fest, che da mercoledì 28 giugno a sabato 1 luglio ospiterà musiche dei generi rock, pop rock, rap e crossover. Il progetto è risultato assegnatario del contributo di circa 12.000 euro del Consiglio regionale della Toscana e di 6.000 dal Comune di San Giovanni Valdarno, grazie al bando Rigenerazione Toscana previsto dalla legge regionale numero 3 del 2022 che sostiene iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Una iniziativa che parla ai giovani e che è costruita insieme ai giovani. Quando qualche tempo fa, insieme a tutta l'Assemblea legislativa, pensammo su come poter destinare l'avanzo di amministrazione, quello derivante dai risparmi sui costi della politica, da una migliore organizzazione della macchina del Consiglio regionale, abbiamo pensato di rivolgerci soprattutto ai più giovani. Tante sono state le iniziative, belle, ma questa è una di quelle che ci ha più colpito, perché davvero permette di fare animazione, permette di fare socialità, permette di coinvolgere le ragazze e i ragazzi. L'estate toscana sta partendo nel modo migliore con festival come questo, il Phoenix Fest, che è organizzato da giovani e coinvolge veramente una fascia importante della popolazione. C'eravamo prefissi come risultato quello di aprire questo palazzo alla presentazione degli eventi più significativi del territorio. Stiamo proseguendo nel nostro impegno. Un festival che durerà dal 28 giugno fino al 1 luglio, con i due concerti che si svolgeranno nella suggestiva cornice di Piazza Masaccio, una delle piazze più belle della nostra Toscana, e quindi riusciamo a coniugare l'attenzione per i giovani con la bellezza del nostro territorio. Le giornate del 28 e 29 giugno saranno dedicate a workshop per i giovani, uno di produzione musicale, uno relativo all'organizzazione di eventi e discografia ed uno di serigrafia, dove i ragazzi potranno serigrafare le loro magliette. Le due giornate saranno d'ingresso gratuito, con orario 9.13 e 15.19, e per iscriversi occorre prenotarsi ad una piattaforma online. Dal 30 giugno, poi, spazio ai concerti in Piazza Masaccio. È un festival sicuramente molto importante, arriva alla seconda edizione perché la prima edizione c'è stata lo scorso anno, è organizzato da una ferramenta dischi, che è, come dire, un'organizzazione promossa da un gruppo di ragazzi giovani che hanno organizzato questo festival musicale che si svolgerà dal 28 di giugno al 1 di luglio, con workshop e concerti. Grazie a un contributo importante del Consiglio regionale, quest'anno sono riusciti veramente a realizzare questo festival in maniera molto più ampia e molto più articolata. C'è una grossa attesa da parte nostra, per cui l'invito è alla partecipazione massiccia, soprattutto da parte dei giovani. Proprio per dare l'idea di festival, ci saranno più artisti a sera, ci saranno tre artisti a sera al line-up. Il primo giorno sarò molto più cantautorale, ci sarà Lucio Corsi, che è un cantautore toscano, maremmano, che però ha già fatto un gran bel percorso, è stato candidato al Tenco, fa concerti in tutta Italia, ha il suo terzo disco. Mentre il secondo giorno abbiamo puntato, sempre per essere molto vicino a quella che è l'utenza dei giovanissimi, a una serata più legata al mondo del rap e della musica trap, e quindi ci saranno una serie di artisti, sempre toscani, perché l'oggetto del bando era appunto questo, di far esibire artisti toscani under 35, afferenti a quel mondo artistico lì. E tutto questo, sia i workshop che gli eventi, i concerti, saranno gratuiti. Entropia in foto Paesaggi, nature morte, volti, tutti attimi legati ai ricordi, racconti e pezzi di vita. Non c'è un soggetto privilegiato nella mostra Entropia in foto di Alessandro Signorini, ma si tratta di scatti immortalati dall'autore per fermare il tempo, immagini che gli hanno trasmesso emozioni e sensazioni nel corso degli anni. La mostra è stata ospitata nello spazio espositivo Carlo Azzeglio Ciampi del Palazzo del Pegaso. Signorini è un medico chirurgo di Certaldo, console onorario della Repubblica di Moldova, la cui passione per la fotografia nacque fin da piccolo ed è stata coltivata negli anni, catturando immagini e sensazioni, sia in ambito professionale che privato. L'ho chiamata Entropia proprio perché Entropia è un'unità di misura della confusione e quindi queste fotografie sono messe e disposte anche in maniera molto, molto, molto casuale. Non sono un fotografo, ho cercato di immortalare in uno scatto fotografico quello che i nostri occhi riescono a vedere, il bello e il brutto. Questo non so se ci sarò riuscito, chi vedrà la mostra poi saprà giudicare molto meglio di me. Per il nostro territorio rappresenta un'ulteriore dimostrazione di una grande vivacità culturale, di quanto i nostri cittadini, in questo caso cittadini certaldesi, il nostro concittadino Alessandro Signorini, mettano la propria arte, la propria persona, la propria generosità a disposizione di un'intera comunità. E io credo che questa mostra rappresenti un vero e proprio viaggio che Alessandro ci fa fare nel mondo, nella nostra Toscana, nei nostri borghi, nei nostri luoghi più caratteristici. Racconta la vita, la sua esperienza, le sue emozioni, le sue suggestioni. Quindi noi siamo davvero felici quest'oggi di essere qua, di inaugurare questo percorso espositivo e grazie al Consiglio regionale della Toscana, al suo presidente Antonio Mazzeo, che ogni volta non manca mai di dare la possibilità al nostro territorio di esprimersi e di farsi conoscere all'interno di questi bellissimi spazi della nostra regione.